ci piace la domenica proprio una bella giornata rilassante il polista siccome ho una certa età se magari questa musica la sfumiamo prima non mi viene il tacco cardiaco grazie mille ben scusa finuzzo ma adesso cos'è sei entrata a far parte di un musical balli tipo lo spazzacamino di mary poppins no domenica in queste puntate xl si pulisce ben bene lo studio si pulisce bene e si metta di tutte le cose sporche che non servono a niente benvenuti a una depondata di base a postale come si pulisce casa ve lo spiega vostro amico pinuzzo span cioè tu sei pinuzzo span pinuzzo span e spieghi vince contro tutte le macchie il sporco lo sai con uno scopettino così e questo sto scopato cioè tu adesso vuoi insegnare pinuzzo come si pulisce casa sì ma anche no non mi sembra che tu sia tanto in grado è un posto adatto non è il posto adatto penso qui noi siamo per leggere le letterine per fare festa per divertire i nostri amici no al fiatone pinuzzo c'è un età pinuzzetto mio è un po di allenamento no purtroppo sì tesoro della zia vieni qua dammi lo scopino qui che lo mettiamo via basta tu non hai un età per fare queste cose tu al massimo leggi le letterine dai forza leggi ciao sono iussef con nove anni ciao sei bellissima domenica dovresti mangiare meno paninini grazie no scusa scusa è la polvere mamma mia è venuto sono allergico dammi una botta in testa con il manico di scopa ho capito ma metti la mano davanti quando devi star mutire no non ho capito mamma mia ancora l'ho poggiato ho poggiato la scopa quindi dovresti mangiare meno paninini grazie si è simpaticissimo ma sorella fai vedere questi disegni dai priscillo fai vedere questi disegni ma che priscillo sono geo io basta allora pinuzzo perché mi chiami sempre con un nome diverso scusami eh questa cosa non l'ho capita fai vedere il disegno senza strapparlo mi raccomando il nostro iussef ha una sorella di tre anni che si chiama eia a lei piacciono molto bocoglio e debits bab 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 i figli io quando leggi ti giuro ti giuro pinuzzo quando leggi io non capisco niente invece a iussef piacciono farà di olandina sandocano e l'ultimo dei miei canini mi piacerebbe se potete rifare guardarli per guardarli divertiti mi guardo sempre questi cattoni vorrei che leggete la mia lettera mi piacerebbe il Natale e il vicino vi faccio gli auguri vorrei che leggete la mia lettera un italiano una grammatica veramente no probabilmente ho strappato la lettera c'erano altre parole e poi qui c'è tutta la squadra esatto pinuzzo con il tuo cappello pinuzzo con i suoi capelli biondi e fluanti i medi e il geo in biglava esatto lei ci ha fatto gli auguri per il Natale che sappiamo è passato da un po' ormai purtroppo siamo già nel nuovo anno però comunque grazie per gli auguri anche se in ritardo anche a te che c'è pinuzzo che è? no no non mi fa prendere altre paure dai pinuzzo che è? beh sono in stand by vai avanti ah sei in stand by? ah puoi rimanere così? ce lo scrivi sempre fino a che uno non mi tocca vado avanti così benissimo ah rimani lì allora quanto mi piace questa musichetta stai fermo pinuzzo hai detto che finché io non ti tocco guarda guarda non ti sto toccando non ti sto toccando non ti sto toccando devi rimanere lì fermo fermino ciao amiche geo mi chiamo camilla non ti sto non ti sto toccando abito a borgo valsugana vi scrivo per la seconda volta in quanto non ho ancora visto i miei disegni appesi al muro devi stare fermo eh pinuzzo fermo i miei cartoni preferiti sono i barba papà sandokan e music gate micchi non devi essere spiritoso con geo geo sei molto be- ti sei mosso? pinuzzo ti vedo eh è noto che fai così devi rimanere fermo micchi non devi mangiare tanti panini ciao un bacio da camilla pinuzzo allora o stai fermo o stai fermo guarda veramente eh camilla questa è camilla che ci manda anche un bellissimo disegno è la prima volta che sentiamo pinuzzo ridere ma piangi o ride ma che fai piangi o ridi piangi o ridi piangi o ridi pinuzzo no 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 pinuzzo pinuzzo senti ci deve essere stato un problema però mi sembra che tu abbia un occhio sì e uno no pinuzzo pinuzzo che cosa hai fatto? ehi sei forte bravo senti non puoi cambiare personaggio ogni venti giorni eh e ogni venti minuti manca puntando dentro la sette non mi faccio eh infatti scusami finiamo di leggere questa meravigliosa letterina di camilla allora fai vedere un po' di disegni si ninini ninino bravo ninino un agregulpo con dei fiori però poi spiegali spiegali sandogano con un arco di freccia c'è il cocco pillone guarda che bello questo spiega questo pinuzzo questo è musicite slam uno e c'è già l'altro camilla e guarda quanto è bello questo disegno voglio un applauso per camilla eh dai culpo arruino è bellissimo guarda camilla veramente ci hai fatto dei disegni meravigliosi brava vedrai che adesso sbirciando sul muro li troverai guardando un po' ehi brava camilla sei forte bravo sei tosta pinuzzo scusa eh tu devi cioè non è che prendi e ti impossessi di qualche personaggio va bene? va bene oh allora adesso saluta per benino ninon ninon dai no non voglio sapere niente e dai ninon ninon no non si saluta e dai ninon ninon non si saluta niente dai ramani fai presentazione questo è un grande puntato ci vediamo domani ciao un grande puntato ciao